Restano critiche le condizioni del bimbo di due anni caduto dal letto mentre si trovava in vacanza nel Cortonese in provincia di Arezzo con la famiglia. Il piccolo figlio di una coppia inglese è stato portato dai genitori questa mattina attorno alle 8 all'ospedale della Fratta. È arrivato accompagnato dai genitori con la propria auto un bambino di appena due anni ancora non compiuti, straniero immagino in vacanza in Valdichiana perché era caduto poco prima dal letto. Aveva riportato questo trauma cranico e i genitori lo hanno portato perché stava diventando sempre più sonnolento. Il medico di turno e gli infermieri di turno al pronto soccorso della Fratta hanno capito immediatamente la gravità del quadro e hanno subito allertato per il trasferimento con l'elisoccorso regionale all'ospedale Meyer. Nell'attesa dell'arrivo dell'elicottero il bambino è ulteriormente peggiorato, quindi è stato sedato, intubato e hanno proceduto all'esecuzione della diagnostica che ha confermato in effetti che c'era stato questo trauma con un'emorragia che quindi necessitava di una valutazione specialistica ed è stato quindi completato il trasferimento al Meyer e adesso è sotto le cure degli specialisti fiorentini. Il bimbo è arrivato all'ospedale fiorentino attorno alle 9.30 ed è stato trasferito subito in sala operatoria. È stato sottoposto ad un intervento alla testa per il trauma cranico riportato, è stato poi trasferito in rianimazione, la prognosi è riservata. Grazie.